Castel Trail, antenne e vabbè ma non è proprio igienico o no? Vabbè stanno parecchi avallamenti il ride sta nei facchi questo è quello nuovo Roby un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte oi dai un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte dimmi un'altra parte ma è aperta la caccia mi sento sparare ogni tanto sento uno sparo un'altra parte un'altra parte un'altra parte un'altra parte e bici bella questa spunta no come se non ci fosse un domani questo è un po' slalommeggiante dall'albero vedi la distrazione il croce il croce il croce l'albero e rilassati la scuola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buuuh. Mi ero sfruttato poco troppo. Buuuh. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info E' il salto www.mesmerism.info Questo l'abbiamo fatto per la prima volta Oh, mi hai fatto favola a me Maledita cat E' il salto Grazie a tutti. E' già finito. Questo è il più bello. Hai fatto un saltone. Alla prossima. Una avventura da CastleTrail è tutto. I veri Waller.